Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Tomb Raider con il Mario Kart. Scusate se l'abbiamo fatto in questa puntata di Tomb Raider perché c'erano 12 visualizzazioni. Sappiamo che sono poche perché è da poco tempo che abbiamo fatto l'episodio 9 di Mario Kart, quindi sì. Scusate se l'abbiamo fatto in questo momento così, però l'abbiamo dovuto fare perché noi siamo arrivati in due minuti e abbiamo deciso di fare tutti. Quindi cominciamo l'avventura. Ecco. Comunque vi dico, l'ho fatta tantissime volte in questa scuola Tomb Raider, l'ho fatta così come l'altro fa che neanche mi ricordo. naturalmente qualcosa mi ricordo sicuro perché qualcosa c'è. C'è, sarà di masso. Però, vedete guardate, lì c'è una persona che si avviene. Ma no, perché ha solo un'impressione di Lara, perché è lì quella persona che si avviene. è lì quella persona che si avviene. Lei ha detto che c'è uno stilo così bene. E' quello che l'ha fatta. Sicuramente. è lì che si avviene anche la scuola. E' lì quella persona che si avviene. Scuola controlla. E' quello che sveglia. adesso che non possiamo fare più di 15 minuti anche a mai non ce l'abbiamo fatto perchè dobbiamo fare una cosa con il computer per non fare più di 15 minuti quindi noi cercheremo di provvedere a questa cosa noi stiamo anche provvedendo a cercare di migrare la pratica anche se per il momento ancora non è possibile quindi intanto proviamo adesso a vedere così che cosa succederà questo proprio numero di contare la cosa che cosa succederà questo il film non fa essere più lungo di 15 minuti che a mai non ce l'abbiamo fatto così quindi non era possibile fare una cosa del genere adesso siccome ci sono troppo gli effetti perchè non si sentono molto le voci quindi adesso faccio così e li metto inizioni sui nuovi video ma non ci sono più che è tipo a diario di 15 minuti o dalla facciamo un po' perché anzi no non ci il va bene la cosa dunque anche allora allora è cosa che sta diventando l'abbè la cosa si trova di un lavoro se stava inizendo e quello che si trova a farlo del pubbbero è la parola Paglia Tola Paglia Paglia Tola Si Ma No No Sì, sì. no Lara, Lara in palo, Lara no che schifo muoviti muoviti muoviti, che schifo chissà che dolore mi immagino non voglio baciare perché non si riuscirò una volta ортino on ci sono omissimi là non non Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao.